Ultimo mese di campagna elettorale e stavolta possiamo davvero cambiare Roma e la politica italiana. La passiamo a cambiare perché abbiamo fatto le cose con serietà. Abbiamo lavorato molto, più di undici mesi, andando a vedere ogni quartiere, non cadendo nel luogo comune delle periferie, perché ogni periferia è diversa. Abbiamo fatto un lavoro serio perché abbiamo costruito un programma insieme a 500 persone, 27 gruppi di lavoro su ogni municipio, su ogni problema. Un programma vero, non una lettera di intenti ai romani, con i numeri, quello che si può fare, quello che non si può fare, quanto ci mettiamo. Abbiamo lavorato con serietà perché la lista che abbiamo presentato è fatta di persone capaci nei loro settori di attività. Non abbiamo preso specchietti per le allodole, nani e ballerine per portare qualcuno a votare, ma che non hanno nessuna competenza per lavorare per Roma. E una lista sola, perché il periodo in cui si mette insieme tutto il contrario di tutto, in liste a strasci, con le cose che stanno facendo Laraggi, Gualtieri, Michetti, tutto questo non appartiene a una politica seria. Appartiene all'idea che i cittadini in fondo si possono accontentare, bisogna parlargli alla pancia e con la pancia ragiona. Un'idea molto irrispettosa dei cittadini. abbiamo fatto tutto questo per dire ai romani tutto quello che voi avete sempre chiesto alla politica. Noi questa volta proviamo a darvelo e ora sta anche a voi, a loro, il coraggio di rompere un meccanismo per cui nell'ultimo mese ti diranno vota perché tu sei di sinistra, vota perché tu sei di destra. Non ti preoccupare chi c'è dentro, ha le liste tutto il contrario di tutto, non ti preoccupare se non abbiamo un programma preciso, se diciamo meravigliosi questi acquedotti e basta o diciamo sì, no, voi e basta. Non vi preoccupare di questo, vota perché sei di destra, vota perché sei di sinistra, vota perché siamo gli unici onesti. Mi dispiace la politica non è così semplice, è molto più complessa di così e se a Roma noi riusciamo a sconfiggere questa maledizione, la sconfiggeremo in tutta Italia. Per questo abbiamo bisogno del vostro supporto, in qualunque forma. Chi vuole venire a fare il volontario, chi vuole fare il passaparola, chi vuole chiamare cinque amici, chi vuole donare una piccola cifra, chi vuole fare due per mille, qualunque forma, perché noi possiamo metterci tutto lo sforzo e la fatica possibile. Voi ci dovete credere con noi e io penso che succederà perché sapete una cosa? Il lavoro duro paga sempre.